RIVA! 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 Riuscire a gestire tutte le pressioni che abbiamo intorno. In Italia ci sono 60 milioni di persone, sono 60 milioni di operatori, quindi non esiste o solo non è un lavoro dove tutti lo sanno fare meglio di te. Quindi devi riuscire a mantenere davvero grande equilibrio per cercare poi di fare le scelte giuste esterni. Facce condizionale da noi.